C'è un volto che esprime serenità, a fianco di un altro che incute paura. È l'immagine del cambio di personalità di alcuni uomini, il focus della mia doppia faccia, la campagna fotografica ideata e organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte per il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Due scatti per denunciare cosa si cela dietro la personalità di uomini violenti, capaci di abusi, che lacerano le sfere psicologiche, fisiche, sessuali e anche economiche delle donne. Tra i testimonial che hanno prestato il loro volto alla campagna di sensibilizzazione, l'attore Fabio Troiano, il comico e conduttore televisivo Beppe Braida, l'attore e illusionista Marco Berri, i comici Marco e Mauro e i musicisti della band piemontese Banda Cadabra. La mia doppia faccia è il fiore all'occhiello della campagna di comunicazione con la quale il Consiglio regionale conferma l'impegno per sensibilizzare l'opinione pubblica verso un tema drammaticamente e quotidianamente all'ordine del giorno, ma non è l'unico. È un messaggio di solidarietà, anche quest'anno il Consiglio regionale del Piemonte aderisce alla campagna contro la violenza alle donne, indubbiamente innanzitutto illuminando la facciata di colore rosso e poi con dei video emozionali delle consigliere e poi anche con immagini direttamente da attori e personaggi famosi piemontesi che testimoniano questa vicinanza di lotta alla violenza alle donne. Un messaggio con molte sfaccettature che coinvolge il portale SOS Donna con un sondaggio online sulla conoscenza dei giovani sulla violenza psicologica e che si rafforza con le consigliere regionali che invitano a tenere alta l'attenzione con le loro dichiarazioni raccolte in un video diffuso sui social. Il 25 novembre è anche l'occasione per continuare il percorso con la Polizia di Stato con la quale sono state realizzate quattro clip video con i responsabili che operano presso la divisione Polizia Anticrimine e presso alcuni commissariati di pubblica sicurezza territorialmente importanti. Una collaborazione costante che deve sensibilizzare innanzitutto le donne che devono riconoscere le prime ravvisaglie, chi hanno in casa soprattutto e quali sono le ravvisaglie per contrastare la violenza sulle donne. Dobbiamo fare in modo tale che le donne si attivino tempestivamente in modo tale che non succeda l'irreparabile come purtroppo succede nelle situazioni casalinghe. Stiamo cercando di collaborare con le forze dell'ordine e con la questura anche di Torino in modo tale che venga sensibilizzata la popolazione maschile e femminile che questi atti di violenza contro le donne e verso l'umanità in generale finiscano al più presto.